Un giorno, mentre sfogliavo un libro di Santana e Polaroid, mi sono riconosciuta in una delle foto. Si trattava del libro del famoso designer d'architetto italiano, Carlo Molino, sulla sua casa di Torino, da lui utilizzata come un laboratorio segreto verso la fine della sua vita, e che egli aveva concepito come una sorta di mausoleo personale. Rimasi scioccata. Carlo Molino mi aveva fotografata e io non me lo ricordavo. Perché questa dimenticanza? Cos'era successo quella notte della mia adolescenza, che avevo preferito dimenticare e che ora mi torna in mente tramite questa immagine? Mi è venuta voglia di ritrovare questa casa e di farvi ritorno vent'anni dopo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!